spagetti ragazzi di youtube eccolo qua al mare eccoli qui ragazzi allo scoglio il mare di Radispoli, guardate dietro, breve video, brevissimo video, eccolo qua ragazzi ed ecco a voi, spaghetto allo scoglio, buon attività a tutti quanti ragazzi, spaghetto allo scoglio con dietro il mare di Radispoli, buoni, gradevoli, saporiti ragazzi di youtube, ma io, io gli ho questa bella ragazza vicino a te, ecco qui ragazzi, vedete, dentro ci sono ragazzi, cosse, bombore e gamberi, grazie a tutti, ciao d'Ale Ambro, buona attività a tutti, dalla Radispoli è tutto, un saluto vero, e l'ultima, ecco qua, mangiamolo adesso, la Radispoli in mare, guardate, che spettacolo, c'ho a tutti, un saluto vero, l'area, conoscete l'area grazie a tutti